Il primo paese a salutare il 2010 sarà la Nuova Zelanda, ma cresce l'attesa a Sydney, che saluterà il Capodanno due ore dopo Wellington. Nella scenografica Baia che guarda l'Airbur Bridge, migliaia di persone hanno passato la notte in tenda per non perdersi lo spettacolo, uno show pirotecnico tra i più belli al mondo. In attesa di dar fuoco alle polveri, gli organizzatori hanno preparato 5 tonnellate di fuochi d'artificio e prevedono l'arrivo di un milione e mezzo di persone. Dopo l'Oceania sarà la volta dell'Asia, sarà spettacolo nei cieli di Singapore e Hong Kong. Dai cieli asiatici a quelli di Casanostra, dove il maltempo rischia di rovinare la festa. Si prevede pioggia sul versante tirrenico e sul centro nord, Triveneto, Campania e Sardegna le aree più interessate dalle precipitazioni. Molti concerti di piazza chiamati a scandire l'arrivo del nuovo anno, tra i più attesi quelli di Roma lungo via dei fori imperiali con Antonello Venditti e gli Zero Assoluto. E di Napoli con Renzo Arbore e l'orchestra italiana. A Venezia il Capodanno sarà accolto a Qualta permettendo con un bacio all'unisono in piazza San Marco. A suggellare lo spettacolo potrebbe esserci anche un fenomeno astronomico. Si tratta di un eclissi parziale che oscurerà l'8% della luna. Marco Melegano, Sky TG24